L'ossessione di far quadrare i conti in nome del pareggio di bilancio e del patto di stabilità rischia di colpire coloro che sono meno fortunati, per i quali l'esistenza è sempre stata in salita, con numerosi ostacoli e aspre difficoltà da superare per poter vivere dignitosamente. Lo evidenza il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Giovanni Perrino, riferendosi ai tagli dei trasferimenti statali per complessivi 680 milioni di euro per l'assistenza sociosanitaria annunciati dalla conferenza Stato-Regioni. Nonostante le dichiarazioni degli ultimi giorni, dalle quali si desumerebbe la volontà del Governo di fare un passo indietro, rimane alta l'attenzione, afferma ancora Perrino, che ha rivolto un'interrogazione al Presidente Pittelle e all'assessore Franconi per sapere come l'Aggiunta regionale intenda tornare a garantire adeguati livelli di assistenza sociosanitaria anche a fronte dei pesantissimi tagli governativi. Perrino chiede inoltre se l'Aggiunta intenda o meno avvalersi della facoltà di indicare al Ministero risorse e soluzioni alternative che permettano di sterilizzare l'effetto dei tagli governativi sulla qualità e quantità delle prestazioni fornite ai cittadini lucani.